Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere come iniziare una conversazione con una donna senza mandare possibilmente le cose puttane. E quello che ti mostro in questo video funziona o non funziona? Perché nel mondo reale è testato, nel bene e nel male. Io sono Giordio Lorenzo e questo è Seduzione Attrazione. Quindi se tu vuoi vedere approcci reali nel mondo reale filmati con telecamera nascosta vai sul link in alto a destra. Detto questo, la prima regola che tu vuoi tenere a mente è approccia in fretta. Ora varie persone sia nel nostro mondo che nel mondo dello sviluppo personale parlano di regola dei zero, tre cinque secondi poco importa, semplicemente devi muovere il culo. Infatti se tu sei un principiante molto probabilmente il primo successo per te è quello di riuscire ad approcciare senza lasciare andare via la ragazza. E questo è legato al problema dell'ansia di approccio. Infatti moltissimi uomini semplicemente si cagano addosso quando si tratta di approcciare o conoscere una donna sconosciuta. Se tu senti di avere questo problema vai al link in descrizione e guarda come risolverlo una volta per tutte. Quindi in pratica a questo stadio parliamo semplicemente di quelle che sono alcune regole per fare una buona impressione. La prima cosa importante sono buona subcomunicazione e buon linguaggio del corpo. Quindi stai dritto con quello che è il tuo linguaggio del corpo, petto in fuori, sorridi a ragazza per mostrarle che non sei una minaccia, anche se questo è un qualcosa che meriterebbe un po' di dibattito, nel senso che se tu sorridi così di fronte a ragazza in realtà fai quello che viene definito classico sorriso del venditore in gergo tecnico e quindi a questo punto è ancora peggio. Ma non posso espandere questo argomento in questo video. Quello che tu vorrei fare quindi è sorridere, abbassare la tua voce ma mantenere al tempo stesso in modo per l'appunto da passare come più dominante, più convincente, più sicuro di te eccetera eccetera. E questo è molto molto importante perché se non accade tu perdi o non catturi se preferisci la sua attenzione sin dall'inizio e a quel punto ti trovi ad avere a che fare con una missione di recupero sin dalle prime battute. Quindi per approcciare il giorno questa è una frase base iniziale che puoi utilizzare. Ehi scusa, so che sembra una cosa piuttosto di impulso ma ti ho vista, ho pensato che fosse molto interessante e volevo venire a dirci ciao. Quindi cerchiamo di andare a vivisezionare quello che ho appena fatto. Con lei scusa cogli quella che è la sua attenzione. Dicendo una cosa piuttosto impulso, piuttosto che ti ho vista mentre ero lì e magari lo indichi con il braccio quello che fai è settare il contesto e quindi chiarire che non la stai seguendo, non stai facendo un livello strano semplicemente è un qualcosa che è caduto nel momento. E al tempo stesso quello che vuoi fare è il mindset dietro alla parola interessante sì ok ti ho trovato interessante ma sto venendo a scoprire di più e di conseguenza non abbassi troppo quello che è il tuo valore partendo dal presupposto che stai facendo un approccio diretto in questo caso. Detta in altre parole, non vuoi farle percepire che lei è troppo per te vuoi passare come sicuro di te e non bisognosa nei suoi confronti e della sua approvazione. Ehi scusa, so che sembra una cosa piuttosto di impulso ma ti ho vista ho pensato che fossi molto interessante e dovevo venire a dirci ciao. Ok, cosa hai trovato interessante in me? Quello che ho notato di te è che ti ho vista là e avevi questa camminata molto sicura di te e volevo venire a controllare se fosse vera sicurezza in te stessa o meno. Ok. Ok vediamo invece cosa fare la notte, per prima cosa cerchiamo di vedere cosa non fare. Ciao, scusa, ti ho vista di là e volevo venire a parlarti perché ti ho vista e eri semplicemente bellissima. Oh grazie mille, però ragazzo. Ciao, scusa, posso offrire a bere a te e alle tue amiche? Ehi ciao, sì, andiamo ragazzi, voglio finircelo bere. Andiamo. Sotto testo, scorchiamo da bere a questo scemo e diamogli un calcio in culo. Su questo argomento ci sarebbe molto da dire ma quello che ti basta sapere è che più tu prendi sicurezza e confidenza in quello che stai facendo e più in realtà risulterai credibile agli occhi delle donne e ragazze che ti piacciono. E se tu in questo momento hai paura o non ti senti confortevole quando si tratta di approcciare una donna, non ti preoccupare, io all'inizio per farlo mi devastavo di alcol e quello che adesso ti sembra difficile, fra qualche mese o poco più, se approcci questa cosa con serietà, potrebbe sembrarti facile. Il nostro terzo punto molto importante è quella che è la comunicazione non verbale. E quindi adesso provo a mostrarti velocemente cosa da fare e cosa da non fare. La prima cosa che tu vuoi essere in grado di fare è mantenere un forte eye contact con la ragazza. In parole povere continui a guardarla con lei che distoglierà lo sguardo per primo, piuttosto che essere tu a distoglierlo per primo. La seconda cosa che vuoi avere è un linguaggio del corpo eretto, nel senso che come vedi posso parlare alla ragazza in questo modo o per esempio in questo modo. Un'altra cosa che tu vuoi evitare di fare sono movimenti per esempio estremamente veloci mentre parli con la ragazza, perché se è vero che creano energia in realtà mostrano nervosismo a parte tua e quindi tu vuoi essere più lento mentre parli con lei. Un'altra cosa che tu non vuoi fare è per esempio fare un sorriso, ne abbiamo già parlato, che dimostri chiaramente a quella che è la ragazza che sei nervoso. Qualcosa è il tipo... Pintastro che qualcosa è il tipo... Quello che succede qui è che in realtà è quasi come se non fosse un sorriso. Cosa significa? Che sorridi solo con quest'angolo della tua bocca. Un'altra cosa che vuoi avere con lei è una forte stretta di mano uomo-donna versus una stretta di mano di merda. Quindi un qualcosa di corretto è qualcosa di questo tipo, continuando a guardare la ragazza negli occhi, e qualcosa di scorretto invece è qualcosa del tipo di questo tipo, magari guardando in basso. Guardi prima la ragazza e poi distogli lo sguardo. Un altro grosso problema che la maggior parte degli uomini hanno è che si sporgono in avanti contro il rimanere rilassati col corpo all'indietro. Perché teori mostro fondamentalmente se mi sposto in avanti, e può essere anche uno spostamento impercettibile verso la ragazza, mentre guardo la ragazza, e questo mostra fondamentalmente che sei risucchiato in quella che è la sua realtà, mentre se tu ti sposti leggermente indietro, in realtà e se continui a guardarla, se tu già interessa in lei è facile che lei rompa gli spazi, e di conseguenza crei una impressione, crei una situazione per cui è lei che insegue e non tu. Quello che vuoi sapere è che ci sono vari tipi di approccio e per comodità e brevità ne vediamo solo alcuni. Il primo tipo di approccio che abbiamo è un approccio diretto. Se tu sei un super principiante, quello che ti consigli di fare è di aspettare per quello che è il suo eye contact, se lo ricevi, e poi approcciarla in maniera diretta. Ehi, scusa? Ehi. Ho pensato, visto che ho notato che guardavi con una certa insistenza, che qualcuno dovesse venire a dire ciao all'altra. Ma non ti stavo guardando. Ok, ok, possiamo far finta. Un'altra cosa che tu vuoi fare è approcciare in maniera indiretta. E quello che tu vuoi fare, se vuoi scegliere questo tipo di approccio, è in primo luogo testare diverse modalità di approccio indiretto, in secondo luogo sperimentare sul campo e vedere cosa funziona meglio per te. E soprattutto utilizzarle in aree dove c'è possibilità di parlare in un locale notturno, perché altrimenti non puoi far partire la conversazione, se c'è troppo casino. Quindi quello che tu vuoi fare è semplicemente testarle e non impazzire troppo sulla frase, in quanto se fondamentalmente ti fai vedere sicuro, all'inizio non sarà così tanto la frase, ad essere quello che conta, devi solo far partire la conversazione. Un'altra cosa che tu vuoi tenere in considerazione è che devi essere capace di transizionare da quella che è la tua frase di apertura allo step successivo. Cioè praticamente non puoi, semplicemente come fanno molti uomini, arrivare lì, approcciano in maniera indiretta e poi non sanno cosa dire. Ehi, scusa, mi stavo chiedendo se ti piacesse questa musica, perché mi sembravi un po' fuori luogo qui, guardandola da là. In realtà non mi piace, preferisco la Laus, solo che c'è, comprando della mia amica dove venire qua. Ok, perché a guardarla sembra che aveva più o meno 14 anni? È vero. E quindi sei tu la più grande? No, in realtà è quella che vedi laggiù. Io sono la seconda. Ok, questo significa che sei anche la seconda in catena di comando? No, comando io. Con l'approccio contestuale invece quello che facciamo è sfruttare qualcosa che sta succedendo nel contesto per far partire una conversazione. Prendiamo ad esempio il fatto che la ragazza potrebbe essere nel locale notturno a guardarsi di fronte allo specchio, a specchiarsi. Ehi, scusa. Ehi. Non volevo interrompere questa reazione d'amore tra te lo specchio, ma mi chiedevo se lo monopolizzassi sempre così tanto. Ci sono stata solo due secondi. Perché da fuori sembrava molto di più e quindi mi stavo chiedendo se questo è il tuo comportamento abituale oppure semplicemente le tue amiche ti hanno lasciata qui da sola. Quello che invece adesso vediamo è la simulazione di lei in un negozio che sta per esempio facendo shopping. Ehi, scusa. Ehi. So che c'è una legge non scritta che dice che non dovresti fermare una donna quando sta facendo shopping, ma ti ho visto a guardare questo vestito e non penso che dovresti comprarlo. Perché? Perché a giudicare a quelle che sono le tue buste sembra che tu abbia decisamente superato i limiti di carta per lo shopping. Non ho limiti nella carta per lo shopping. Un'altra cosa che vuoi tenere in considerazione è che in realtà non importa quanto sia figo quello che dici, se l'espressività che hai e quindi l'atmosfera di sotto è una merda, e al tempo stesso puoi dire qualcosa di potenzialmente stupido che ha un effetto migliore di qualcosa che potrebbe essere figo se detto veramente in maniera noiosa e piatta. Quindi facciamo un esempio. Diciamo che, non lo so, sei ad una mostra d'arte e la ragazza sta guardando un quadro. Ora ti mostro come in realtà, anche se dico qualcosa che possa sembrare intelligente, affascinante, mettila come vuoi, può venire fuori una merda. E poi ti mostro anche come puoi dire qualcosa di assolutamente stupido, almeno creare una bella atmosfera con la ragazza. Hey, ciao! Hey! Ti ho vista di là e con questo vestito rosso e nero, visto che siamo in una galleria d'arte, ho pensato che lei deve essere un'appassionata di stand-up. Ok, ho cercato di farla il più sbagliata possibile, molto probabilmente voi sareste riuscite a farla peggio, ma il punto è che, anche se dici qualcosa che potenzialmente, soprattutto se lei è interessata all'arte, per esempio, potrebbe mostrare che sei una persona interessante. Se la dici con un tono di merda, non sortisce quello che è l'effetto. Viceversa, anche se dici qualcosa che è un'assoluta schifezza, ma detto in maniera divertente e accattivante, puoi comunque cogliere quella che è l'attenzione della ragazza. Hey, scusa, so che sono piuttosto sfacciato, ma ti ho vista, vestita tutta in rosso e nero, e mi hai ricordato una mascotte del Milan, e dove mi hai dirti che ho pensato che avessi sbagliato questo. Grazie! Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.